Non è campionato ma già si fa sul serio in Coppa Italia. Domenica alle ore 16 San Cataldese è impegnata al Mazzola contro il Paternò nel primo turno della competizione nazionale dopo aver battuto il Catania nel preliminare. I Verdi Amaranto puntano nuovamente al successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro i Rosso Azzurri in tutti i reparti. Per la squadra allenata da Matteo Vullo l'opportunità di proseguire il cammino in Coppa senza particolari assilli considerata anche la data d'inizio del campionato che per il Girone I è stata fissata al 18 settembre. Per la Coppa Italia di eccellenza pure domenica alle ore 16 torna il derby tra Gela e Nissa, il primo impegno ufficiale della stagione per le due squadre che concluso il ciclo delle amichevoli nell'ambito della preparazione precampionato intendono cominciare con il piede giusto il nuovo percorso. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 7 settembre ma prima di quella data sarà campionato, domenica 4 infatti prevista la prima giornata e si prevede un massiccio numero di spettatori anche da Caltanissetta per una partita tradizionalmente sentita dalle tifoserie delle due città.